Una settimana da capitale al quadrato, una settimana da riscatto. Dopo la tremenda alluvione del 2023 che ha sconvolto la comunità di Cantiano, il comune e i suoi cittadini si preparano a vivere sette giorni all'insegna di Pesaro 2024 dal 5 all'11 agosto, con un programma il cui titolo già racconta tanto sulla settimana, ponendo uno sguardo di terra e di luce. Un'occasione di rivalza per la comunità cantianese che con forza e tenacia ha deciso di rialzarsi da una delle pagine più difficili della sua storia, quindi una settimana di cultura per il tramite della quale riusciremo a raccontare il nostro territorio, dalle sue eccellenze storiche, artistiche, ambientali, gastronomiche e creare attorno al concetto di cultura largamente attesa un volano che possa essere sia una promozione del territorio ma che generi anche ricadute economiche. reali sulla nostra comunità. Vedremo quello che è un programma che abbiamo mantenuto, tenuto nascosto fino a Dora, che ruota attorno a una figura per noi cara e prestigiosa, che lega tra l'altro Pesaro a Cantiano, che è la figura del maestro Oscar Piattella, che è nato a Pesaro e ha vissuto nella sua vita a Cantiano. Per il tramite delle sue opere racconteremo diversi aspetti della storia e della tradizione della cultura cantianese, passando appunto per i suoi quadri, le sue opere e legandole a quelle bellezze ambientali, storiche e artistiche a cui tanto era caro. Abbiamo diverse situazioni che meritano attenzione, soprattutto degli eventi che vedono in scena un'altra eccellenza del nostro territorio, che è una compagnia teatrale, di ragazzi che hanno deciso di ritornare, di professionisti che hanno deciso di tornare su Cantiano e di aprire e di essere a supporto dell'ente pubblico per la promozione e lo sviluppo di attività culturali. Quindi avremo dei spettacoli che vanno a rivivere le nostre tradizioni, i nostri aneddoti, le nostre storie che legano la comunità cantianese con una boccata d'ossigeno su una promozione territoriale più ampia al di là dei confini di Cantiano. Cantiano, che la troviamo anche in una settimana centrale dei palinzesti classici della nostra provincia, quindi dal 5 all'11 di agosto, mette in campo un programma molto articolato che parte e prende ispirazione da Oscar Piattella, ma che ha saputo valorizzare tutte le componenti della sua comunità, quindi l'associazione, la Proloco e tutti coloro che in qualche maniera gravitano intorno al mondo culturale. Cantiano e tutta l'area dell'alluvione fu nel 2023 la prima a essere attenzionata dal progetto, avendo fatto proprio in quel territorio, a Fontavellana, il primo appuntamento dei 23 e del 24. Quindi fu l'elemento per dire segniamo questa rinascita culturale proprio dall'entroterra, da quelle zone che ne hanno più bisogno. Oggi siamo a rappresentare l'esito di questo lavoro e credo che vanno fatti complimenti a chi ha saputo trasformare un semplice progetto in un programma di coinvolgimento e di attività culturali di primo livello.